oggi andiamo a fare un'insalatina rustica del nazionale allora fagiolina pomodoro e patate adesso andiamo impiattare poi ci mettiamo questa cipolla di tropea la mettiamo qua e poi ci andiamo abbinare un tonno dalla tenuta morgante gentilmente offertoci da domenico che diciamo è produttore di questo di questo eccellente tonno bianco un tonno internazionale ragazzi guardate che meraviglia adesso lo andiamo ad aprire e ce ne mettiamo questo qua è un tonno di eccellenza ragazzi adesso faremo una prova dell'assaggio poi ci mettiamo un po di pepe e poi ci andiamo ad aggiungere un po di origano ragazzi tutto il sapore tutto il sapore diciamo della calabria com'è com'è adesso andiamo a vedere com'è ragazzi avevo la forchetta ci vediamo dopo per la prova dell'assaggio salata mediterranea roba veramente internazionale con la cipolla di tropea e tonno di attualità qualità com'è 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 facciamo la prova dell'assaggio ragionina cipolla di tropea e tonno di attualità com'è 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 del nazionale e andiamo a venire un bello piccoletto di vino questo è un lambrusco del nazionale com'è 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 c'è 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 c'è